Il mio produttore mi dice no no vorrei fare Supercafoni, dico Claudio, ma Supercafoni è vecchia del 96, cioè siamo nel 99 ormai, andata. Poi il romano, ma chi l'ascolta il romano in radio? Pensa se mo a Milano passano nel romano, c'è impossibile. Va di studio, miglioriamo un po' la base, ricanto di tornello, ma insomma sostanzialmente è quella, gliela riporto, la metto in play, già dopo la prima strofa fa, vabbè, andata, hit. Ma facciamo sta canzone e sto videoclip e in 14 giorni si scoppia il delirio. Io facevo il servizio civile, c'ho una signora molto carina però molto austera, quindi io ero sempre in ritardo, ora mi dirai anche oggi. E praticamente mi dice, eh Brazzanello, guardi però io abito a Conca d'Oro, sto venendo a Porta Portese, cioè sono 25 minuti di motorino, non è facile la mattina. Eh vabbè, 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 come il pezzo fa il botto? Tommaso, carissimo, eh scusi, si pari di tardo, uh, non ti preoccupare, ma quando devi finire? Dico, eh, 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 tipo il 25 maggio, ma non c'hai concerti? Eh sì, c'ha veri concerti, non sto aspettando di finire, uh, ma non ti preoccupare, il 25 aprile facciamo un mese prima e poi vai, si può fare, sì, sì, ma così, non so, quelle cose che dice, boh, ma è un mondo dei pazzi. Ciao Tommaso, benvenuto al podcast. Grazie. Senti, io sono un tuo grande fan da, non dico proprio l'inizio perché leggendo il tuo libro di cui dopo parleremo ho scoperto che ci sono degli inizi ancora precedenti, ma mi ricordo che quando arrivò Spingo Io, Ci Spingo Io, fu una cosa che non avevo mai sentito prima anche con gli amici con cui ascoltavamo Ripe ai tempi ed era una cosa appunto originale, potente e diversa da tutto il resto soprattutto, no? Come nasce, cioè come siete arrivati tu e le persone, insomma, con cui lavoravi in quel periodo a creare qualcosa di così diverso che poi si è evoluto ulteriormente? Ma è nato dal fatto che ai tempi del liceo, che poi comunque alla fine si lega al libro, perché questo è il finale del libro, nel senso che io scavo, indago, racconto il rapporto di due fratelli, scrittore e musicista, cioè scrittore Fabio, musicista io, In realtà arrivo fino al giorno in cui Masito del Colle, che all'epoca si chiama Beffa, inventa questo mio soprannome Piotta, poi da lì si interrompe, perché il resto è noto a molti, a tanti, ci sono anche le canzoni, mi interessava invece la parte precedente. Però siccome tu mi arrivi sul finale, io ti racconto ora dal finale in poi. Cioè nel senso che questa cosa del rap a scuola nasce dal desiderio di avere qualche canzone che rappresentasse meglio me stesso, noi stessi come generazione, rispetto al mercato musicale di allora, che era veramente stantio, c'era quel pop italiano sempre uguale a se stesso nei testi, nei suoni, fortemente ragionato a tavolino per le radio, non c'era mai un guizzo di qualcosa che potesse sparigliare le carte in tavola. Anche la scuola dei cantautori era una fase un po' di ferma, cioè non c'era granché, se ricordo bene, l'ultimo diverso era Luca Carboni, che diciamo era già anni 80, quindi non era la scuola dei Dalla che lo produceva, dei De Gregorio a cui ero legatissimo, piuttosto che insomma tutti quelli degli anni 70, venditti e quant'altro. E quindi proprio in maniera quasi spontanea, a scuola dicevamo, vabbè che palle, ma che ascoltiamo? Allora il reggae giamaicano figo, il rap americano figo, però come raccontiamo noi stessi in musica con questo stile qua? Non lo fa nessuno, quindi dobbiamo rimboccarci le mani che farlo noi, e abbiamo cominciato a scrivere non solo in italiano, ma chi più chi meno, io sicuramente più, addirittura in uno slang di Roma di tutti i giorni, tra cui appunto delle primissime canzoni, come per esempio Spingo io. Lì tra l'altro era un periodo in cui in America e poi anche di conseguenza in Italia si usavano gli skit fra una canzone e l'altra, e quello allo skit introduttivo di Rocco Siffredi, quel pezzo, lì com'è nata? Ma è nata, sempre le mie cose più assurde nascono in maniera ancora più surreale se vogliamo, perché la mia ragazza di allora, cioè mia moglie di oggi, cioè si rappele, lei sa da 28 anni, e praticamente sapendo di, come tutta la mia generazione, di questa passione così per un certo tipo di cinema, B-movies in questo caso, siamo oltre il B, siamo oltre una Z direi, X-movies, mi dice, ah sai che la mamma di una mia amica ha conosciuto la moglie di Rocco, dico scusa, la madre di una tua amica, non lavora all'ambasciata la madre della tua amica, sì sì, lavora all'ambasciata e sta insegnando italiano a Rosa, la moglie di Rocco, e anche lei è ungherese, e quindi parlando, ah ma tuo marito che fa? Mio marito fa rappresentante, il tuo, no? Mio marito fa l'attore, ah che bello l'attore, ma di cosa? Di film porno? Ah di film porno? Cioè due signori ungheresi che non c'era questa cosa italiana, ha detto porno, è così, ma tipo ha fatto, no sai lui è molto famoso, si chiama Rocco Siffredi, ah non lo conosco, vabbè insomma è nato questo dialogo e questa amicizia, e a certo punto, allora io spudonatamente ho fatto, vabbè ma, cioè ma qui di sta a Roma Rocco, magari si può conoscere, ha fatto, vabbè ma glielo chiedo, insomma fatto sta che, apparentemente in 24 ore, ah dice Rocco che gli fa piacere, lui gli piace il rap, se andate a trovarlo sta in via della Camilluccia, e quindi andammo io e Squarta, che è il decorveriero con cui producevo le mie cose in quel momento come roba covatta, ci aspettò a Rocco in sempre un atteggiamento sportivo, in tuta, scarpe a ginnastica, e ci accolse così, un po' come adesso, così sul divano, e parlando di musica e quant'altro. Cioè in maniera molto così naturale, e poi nacque una piccola chiacchierata registrata, da usare nei mixtape che facevamo, ed uno skit appunto venne estrapolato, anzi una voce venne estrapolata e divenne quello skit che precede il brano. Sì sì, cos'era, piatta roba covatta, vi spacchiamo il culo a tutti. Sì, perché c'era questa cosa molto del rap, è sempre molto competitivo il rap, però a me siccome non è che adoro molto la competizione, cioè non l'adoro, mi piace la misura in cui, come si fa a Roma, è legata all'ironia, alle battute, allo sfotto, e quindi in questo caso rompiamo il culo a tutti, detto la Rocco si suonava quanto mai preoccupante per l'ascoltatore. era qualcuno che poteva dirlo con cognizione di causa. E poi dopo, lì avete avuto dei problemi anche, era una citazione di Tornello, non mi ricordo che, o com'era la storia? No, lì fu, allora io, ma anche negli anni a venire, no? Io tante canzoni le scrivo andando in motorino, cose che a Roma avviene ogni giorno. Se vuoi arrivare da qualche parte, che se no rimani in macchina delle ore. No, ma in macchina non mi viene, invece il motorino è un forte potenziale creativo per me, la notte e invece in ore diurne il motorino. Perché sei nel traffico, c'è un po' di nervosismo, delle pause, ripartenza, questi stop and go, poi che comincio a canticcare qualcosa. Mediamente e soprattutto agli esordi, sapendo cantare molto meno di come non canto adesso, che sono nettamente migliorato a furia di studiare, avere una band, e quando io cominciavo a cantare il Tornello di qualcuno, poi il risultato finale non era mai quello originale, per due motivi, perché le parole non me le ricordavo mai, quindi le storpiavo, un po' per gusto, un po' per così, poca memoria. E poi la melodia che a me sembrava del tutto simile, era, e aggiungo in questo caso, per fortuna, invece molto differente nel risultato finale, per cui diciamo il rischio di plagio, compagnia, no, c'era la citazione, ecco quella sì, per cui quella canzone citava una signora canzone, quella scritta da Vasco Rossi per Patti Bravo. La cambio io, la vita che mi ha deluso più di te, invece io molto più l'ultimo, la spingo io, la roba che... E però questa cosa fu d'impatto, perché il mio benzinaio, cioè nel senso che quello dove ogni mattina mi fermavo, andando a scuola per mettere benzina, via con Cadoro, mi dileggiava, tipo, ah, con sto rap, ogni mattina mi fanno sto rap, ma non lo sento mai sto rap, dice che va di moda, io l'ho ascoltato tutti, ma a me non mi arriva, che era un po' più grande di me. Invece una mattina complice questo brano, un po' perché girava tanto a Roma sul cassetto, un po' perché era uscito un articolo sul Corriere della Sera, cioè il primo articolo grande, no, di Mario Luzzato Feggiz, Patti Bravo, mi ricordo che aggettivo aveva usato per me, tipo, ma ti sa quelle cose tipo d'azia, quel discolo, una cosa così, comunque divertente, e mi ha detto, oh, sul Corriere della Sera, ho letto il tuo nome, questa canzone, mi ha detto pure mio nipò, cioè, ha visto che cominciava a girare questa cosa del rap. Il romano, perché quell'idea di traghettarla a tutti, usando lo slang di tutti noi, funzionò, in quel caso funzionò un bel po', poi dopo funzionò a dismisura, diciamo. Sì, ma, perché, infatti, diciamo, prima, tu lo racconti anche nel libro, era il periodo delle posse, quindi, diciamo, c'era un rap molto politicizzato, non che tu poi non abbia preso anche molto spesso posizione nelle tue canzoni, eccetera, però, allora, era proprio una cifra diversa, no, e voi fate questa cosa dove introducete il romano, un immaginario diverso, più pop, e questa cosa funziona tantissimo. tantissimo. Sì, più anche tra Steverino, c'era questa cosa della citazione dello stornello, del campionamento del mandolino, io, per esempio, sai che lo scratch si usava a farlo col proprio nome, era un po' uno status di arrivo, perché avere il proprio nome scratchabile voleva dire avere un proprio vinile con la propria voce, quindi era uno status di io sono un professionista, prima del serato, adesso si può fare. Sì, prima del serato, e quindi, però io non ce l'avevo, questo vinile, cioè, prima del 95 con Ice One che feci fancadelico con lui, come ospite, non ce l'avevo. Però che cosa trovai a Porta Portese? Barcarolo Romano cantato da Gabriella Ferri, poi anche da altri, ma questo di Gabriella era fantastico, che fa? Cioè, sul fiume, che fiotta, così, e quindi, fiotta, si è schiacciato sulla F, fiotta, sembrava il nome vero, e quindi, a sebbia, i Swan dicevo, eh, scraccia questo, sebbia, lì, fiotta, 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 e anche negli intro dei live, poi live, cioè, io li chiamavo live, ma duravo tipo 20 minuti, perché c'avevo tipo 3 canzoni, 4 canzoni, cioè io entravo, facciamo gli scratch con l'int, urlavo come un pazzo, fino a perdere la voce, cantavo i tre brani che avevo, tra cui il duello, che è uscito mille anni dopo, prodotto dai Swan, altre cose, e poi, diciamo, mettevo io ai piatti, facevo la DJ, a Simone Massi, del Colle del Fomento, quindi aveva la creduta, per un ottavo collo, perché i Swan, stava molto con noi in studio, poche e poche volte, dal live, perché era più grande di noi, aveva già una bambina, molto piccola, quindi, non poteva, per fortuna, o purtroppo, per certi versi, andare in giro come noi tutti i giorni. Senti, ma poi un'altra caratteristica, era il contrasto, fra la tua immagine, e poi invece le canzoni, e anche i live, nel senso che, io mi ricordo, questa copertina, quella a bordo del fiume, penso, sì, la prima versione, tipo, che poi è uscita, un disco di Lando Ciorini, Roma, ieri e oggi. Non sapevo, comunque sembri proprio, un bravo ragazzo, no, e poi uno si ascolta il disco, e c'è questo immaginario, di cui stiamo parlando, questa cosa era cercata, e... No, me la spiegava la psicologa, mille anni dopo. No, sai che, secondo me che era, io ero, perché poi qua si lega tutto al libro, per esempio, rispetto al fatto del rap, politico come luoghi, cioè centri sociali, gli stessi che magari mio fratello aveva contribuito a occupare dieci anni prima, non si può forte per l'estino, e però il fare io musica là, in una chiave differente, quindi era un modo per me, per fare comunque politica, però lontano anni luce, da quella violenza che aveva travolto la generazione dieci anni prima di mio fratello, quindi quelli del 77, lui già a 14 anni è molto attivo in queste manifestazioni, in queste attività, però comunque di fatto si respirava a Roma un clima da guerra civile, per cui ogni quattro giorni veniva uccisa una persona in città, e in particolare nei nostri quartieri, Trieste, Salario, Montesacro, Talenti, tra ragazzi di sinistra, di destra, o forze dell'ordine, tra cui però magari, poi ne parliamo a parte del serpico, il polizotto che viene ucciso fuori dal girocese, a me questa cosa mi spaventava proprio, perché da piccolo io la subivo e basta, non avevo a 6, 7, 8 anni gli elementi per analizzarla, la subivo e vivo questo clima che, a me pareva la normalità, si vede che si vive così, che ne so, uno esce, c'è il rischio che non torna a casa, anche se non vedevi come i soldatini, no, delle divise, però di fatto qualcosa di bellico in giro c'era, la stessa cosa invece a livello di droghe, visto che arrivo all'eroina con gli elicotteri su tutte le città e a Roma anche lì, anche nei quartieri, nei palazzi, c'erano veramente persone che tu vedevi trasformarsi dalla sera alla mattina, è una cosa che mi inordidiva, quindi trovevo una chiave tutta mia più leggera nei contenuti delle canzoni, più quella voglia di fare festa, di stare assieme un po' uptempo, ballabia, divertente, caciarona, un po' tipo più stornello, per cui questo taglio qua, tra Steverino, diciamo, però ecco, funzionava, però comunque fatto in quei luoghi che ci ospitarono, perché gli unici a dare spazio in quegli anni al rap italiano furono i centri sociali, con molta lungimiranza, e io gli riconosco questo, cioè l'estrema libertà in quegli anni di poter comunicare quello che cercavamo di essere, forse nemmeno noi troppo convinti, cioè solo spinti sulla scia della passione e dell'entusiasmo, perché ti leggiavano tutti, c'è andato il rap in Italia, ma dove andrà? E invece ecco, sulla bocca di tutti, noi stessi ci speravamo, ma sinceramente non pensavamo nemmeno di fare questo lavoro, cioè pensavamo faremo, l'avvocato io perché facevo giurisprudenza, quell'altro l'economista che faceva economia, quell'altro il professore a scuola perché faceva lettere, e poi nel weekend faremo un concertino, revival, ascoltiamo i dischi, ci ricordiamo quei momenti, invece poi senza quasi accorgersene, è diventato un lavoro, per qualcuno più, per qualcuno meno, per qualcuno con grandi hit, per qualcuno, purtroppo invece non è stato così, però resta un grande affetto per quegli anni, perché c'era una grande libertà creativa, non essendoci ancora le multinazionali a fare pressing, come adesso su tanti ragazzi che hanno quell'ansia alla prestazione, tipo il giovane calciatore, per cui, manco cominciano a divertirsi, che già i numeri, e quanto hai fatto, e gli streaming, e il disco d'oro, e il risultato, non è arrivato, e che palla. infatti una cosa che mi ha colpito, che non sapevo leggendo il libro, anche quanti demo hai fatto tu prima di arrivare poi a fare il disco Screcciabile appunto, cioè c'era anche tanta... sai che quando l'ho scritto, manco io mi dico, cioè mano a mano, perché, ti faccio la genesi di come nasce, scompare mio fratello, che lui era lo scrittore di famiglia, e io diciamo appunto un musicista, aveva pubblicato più di venti libri, però più di... allora il libro è questo, che si chiama Corso Trieste, Fabio Zanella e Tommaso Zanella, esatto, lo trovate nei... nei commenti, cioè nel testo sotto del podcast, sia su YouTube, su Spotify, c'è il link a tutti i libri, quindi c'è anche questo. Praticamente, io appena, e comunque poi non ti ho risposto alla domanda di prima, però adesso ci arrivo, no perché sono mille cose, poi mi ripardo il filo, poi per quel modo di fare rap così da dove nasceva, e praticamente, alla scomparsa di mio fratello, io come sempre faccio quando vengo da un avvenimento drammatico, in questo caso, chiaramente, fortemente drammatico, cioè istintivamente c'è sempre la musica ad aiutarmi, che poi si lega anche alla domanda di prima, la musica di io, e quindi comincio a scrivere a casa di Fabio i testi, poi mi vedo con Francesco Santa Lucia che con me ha prodotto il disco, cominciamo a buttare giù pianoforte e voce come lavoro da un po' di anni più sotto forma di composizione più classica, però vedo che è anche molto più forte a livello emotivo che non lavorare su un beat come si faceva allora, per cui sì, è tutto già un po' fatto, però c'è dei troppi obbligati, invece, c'è una forte voce, è tutto smontato e poi cominci da zero a scrivere, e poi pensi alla produzione ma è dopo, cioè quello è il vestito, prima serve l'idea, insomma, il disegno, poi trovi il tessuto e lo cuci. Tu prima, scusati, ti interroppo, ma conoscevi, sapevi suonare degli strumenti quando hai iniziato? Io ho fatto un po' di chitarra alle medie, qualcosa di pianoforte, però sinceramente ti risponderei no, faccio molto estentivamente, ho sempre fatto il DJ, quindi c'è un buon orecchio anche nel mescolare le cose, e ho sempre amato le parole, quindi amo i cantautori, però anche tanto il ritmo, infatti Lucia Dalla per esempio per me era un mix perfetto, che sapeva passare dal super cantautorato, super emotivo, però anche al pezzo, invece che, o addirittura quando poi metti insieme questi due elementi, vabbè, la perfezione. No, però per la prima volta, oltre all'aspetto musicale, col fatto appunto che Fabio faceva lo scrittore, anche se dei venti libri pubblicati in vita, per lo più saggistica, con tematiche spirituali, religiose, però aveva anche un libro di poesia bellissimo, che è una botta infame, da cui l'album La Notte Infame, e poi dei romanzi brevi, un paio di romanzi brevi, ma trovo anche tanti inediti, perché lui diceva sempre ma sì, ho scritto quattro cose, invece una marea di cose, e da fratello chiaramente vengo catturato da quelli più autobiografici, perché lui era super riservato, super schifo, quindi di sé parlava più che poco mai, a domanda, qualche risposta, e nemmeno troppo lunga. Trovo una cinquantina di pagine dove invece lui racconta la sua adolescenza, quindi io non c'ero avendo dieci anni in meno, dal 75 fino appunto all'80 quando viene ucciso Serpico fuori del giro di Cesare. Delle cose che io sapevo e che in parte avevo più che vissuto, subito, perché a quell'età ti torni a casa e c'è questi racconti da grandi, anche con una certa tensione, no? E un senso così di paura, però ti appunto non sai come gestirla, ti sembra pure che non ti fa nessun effetto, invece probabilmente da qualche parte subisci questa tensione e non riesci manca a rilasciarla, cioè tu la prendi ma non sai dove andarla a rimettere poi. E quindi leggo queste pagine e decido così, ma proprio spontaneamente, senza pensare a un libro, a raccontare poi a mia volta la mia esperienza, quindi cominciare dall'80 dove lui finisce e portarla avanti fino all'87, quindi le elementari e le medie, quindi le stesse cose che lui vive dal mio punto di vista, raccontare il paese che cambia, perché in pochi anni cambia tantissimo Roma e l'Italia, cambia anche il modo di parlare, non sai il fatto delle marche, dei primi computer, anche la musica, dal punk rock suo, invece le prime cose più elettroniche. E poi di nuovo ci riscambiamo la palla con i suoi fini anni 80 e primi anni 90, quindi viaggio all'estero, l'amore per l'Oriente, il ritorno a Roma, il muro di Berlino, la rivoluzione russa, quindi il crollo dell'ideologia per cui lui aveva insomma lottato. Ma scusami, ma il suo testo è suo? Cioè nel libro o l'hai riscritto tu? No, il testo è suo. È suo proprio? Ok. Il testo è suo, il secondo è mio, il terzo è suo, editato da me, cioè nel senso che mentre il primo aveva un continuum di stesura, che poi lui aveva scritto per sé, cioè non mi ha mai parlato di voler pubblicare questa cosa, anche se io l'ho trovata già una forma tutto, pagheremo tutto, quindi una sorta di titolo, che poi è diventato il titolo del primo capitolo, comunque impaginato, cioè da qualche parte forse c'era un'idea che poi magari lui è abbortito di pubblicazione e poi rimasto là. e poi il terzo invece sono sempre cose che ha scritto lui, che però io ho messo insieme, ci ho fatto una ricerca anche proprio dalle carte che avevo, se ne ho fatto il passaporto, i viaggi che ha fatto, una ricostruzione proprio temporale degli anni e dei suoi spostamenti, tra quelli che conoscevo e quelli diciamo documentati, appunto con i viaggi per l'inglese, quindi l'Inghilterra, l'America, poi dopo di torno a Roma, poi di nuovo con la Thailandia, poi di torno a Roma e queste cose che ti ho detto di fine, e poi i miei anni 90 dove torno in quei luoghi che lui aveva magari occupato anni prima e invece con la mia generazione, quindi ok la politica ma sicuramente in maniera molto più creativa, più da indiano metropolitano per citare una cosa del passato che non invece da autonomo e racconto e anche là ho ripreso i miei vecchi diari, anche cose che sinceramente avevo preso in massa e messo nello sgabuzzino e messo nel soppalco, i famosi scatoloni. Ma infatti un'altra cosa che ho pensato leggendo ho detto ma io non mi ricordo tutte queste cose della mia infanzia e adolescenza, avevo una memoria incredibile oppure già prendeva appunti. Ma io ho scoperto che io conservo e conservavo e anche Fabio, magari tenuto male, però lo conservavo, un sacco di materiale, cioè magari appunto il famoso scatolone che c'è dentro la roba del liceo, che vuol dire? Diari, però poi appuntavo cose, sai i flyer delle serate, le copertine delle demo, le demo, quelle ce le ho, però anche io se mi dici quante demo hai fatto venire al disco? Un paio? No, sono molte di più, infatti poi le racconto, perché poi fare la demo non è come adesso che comunque è tutto in digitale e riesce ad andare veloce, cioè non dico che era come fare un disco, però c'era un impegno notevole dalla registrazione, fare le basi perché non esistevano e poi potevi comprarle o scaricare il type beat, la grafica e poi va in tipografia, tagli e cucio, un lavoro proprio artigianale certosì, a volte magari la demo era poi un pochetto di quella precedente, i due migliori brani, quindi quasi ognuna è incatenata con l'altra, poi parto io con cose molto impegnate perché siccome c'era l'esplosione dell'onda rossa posse e io ascoltando loro dico cazzo si può fare rap in italiano, che idea è, faccio a pensare, perché ho detto vabbè lo fanno gli americani, lo ascolto, ma che posso farlo io, e invece comincio a scrivere tutti i testi molto politici, Los Angeles 3 marzo 91 su Rodney King, poi quello sulla prima guerra in Iraq, i fatti dei Balcani, insomma, perché erano quelli che facevano a forte prenestino, e mi piacevano pure, ci andavano pure bene come risponso del pubblico, però in qualche modo li sentivo come se fossero più legati alla generazione antecedente, cioè quella di Assalti Frontali, quindi mio fratello, che non la mia, e poi invece questa formula trovata con i miei coetani, sia a livello musicale che a livello di letterario, di citazione e testo, dicevo, cazzo, questo è originale, perché è una cosa che è nuova, e in effetti poi viaggiava più velocemente. E poi, diciamo, arriva al grande pubblico con Supercafone che ha una caratteristica che è, diciamo, una maschera, un personaggio che però in quel momento forse non viene interpretato come tale dai media, ci viene preso sul serio. Ma perché sai che c'è che il rap eravamo in pochi a farlo, gli addetti ai lavori che scrivevano erano, non voglio dire che non c'erano, ma veramente, Aelle con Paolo Azucar, Pochetto De Gennaro, Pochetto Paolo Ferro, ma insomma, c'è un cinque nomi, c'è una dimensione di critica musicale rivolta verso il jazz, il prog e tanto i cantautori. Quindi, in quello che dicono i cantatori, la tecnica era questa, loro, o è in prima versione, quindi racconto ciò che ho realmente vissuto sulla mia pelle, o è in terza persona e faccio uno storytelling di cose altrui che io commento, no? Invece nel rap è sempre in prima persona tutto, pure se non l'hai fatto te, o anche se è frutto di fantasia, cioè io anche adesso nel disco Una Notte Infame tante strofe mi dicono no, ma perché dici che se Dio ti volesse più bene, Dio ti vuole bene, guarda, io penso che a me Dio mi vuole bene, però non è che tutti siamo uguali, abbiamo la stessa sensazione, in quella strofa là io do voce a mio fratello, cose che lui ha scritto, che ho trovato a caso, sono state pubblicate e che cito, però non è che dico mio fratello diceva, o Fabio diceva, o tizio, no, io, perché è più forte come comunicazione, infatti, torno sul libro, è fatto in prima persona il presente di allora perché è una formula che ha scelto Fabio a livello stilistico, ma io non mi sono permesso di toccarla, non c'ho mai avuto il dubbio perché è vincente così, in prima persona mi piace di più, al presente di allora mi fa volare perché è ok, un memoir, però reso così e non quella volta che andai, feci, perché anche se i fatti tu li conosci già come in un film dove vedi subito il finale, però poi ti racconta come ci arrivi a mano a mano e come i protagonisti ci arrivano a mano a mano. Ma poi c'è un tono emotivo diverso nel senso che si percepisce proprio l'attenzione, l'ansia di vivere come vivevano insomma i ragazzi come i tuoi fratelli negli 70 e poi invece nella tua parte vabbè, poi tu usi quando sei bambino anche una lingua abbastanza mimetica, no? Sì, sì, la faccio apposta per cercare di anche vestire quel dialogo in modo che possa rappresentare l'età di allora chiaramente non esattamente però anche con la semplificazione forse esattamente poi non sarebbe leggibile però diciamo si capisce e secondo me appunto rende questo usare queste due prime persone diverse con una cifra diversa rende molto la tonalità emotiva diversa di questo tipo di adolescente separate solo da dieci anni però poi di fatto con problemi totalmente diversi perché lì come dicevi prima a Roma potete rischiare che ti sparassero per strada no ma anche insomma Fabio una volta io andavo sono andato in bagno e c'era lui con tutto il sangue che era al ginocchio così ma che hai fatto per pronto soccorso no non lo dire a mamma non ci posso andare perché noi mi fanno troppe domande per scappare da dei fascisti che volevano picchiarlo poi lui è chieduto per terra con la moto poi è andato dentro un cinema storico all'espero a Vienomentana si è rifugiato lì ma c'era a Roma si dice sbrego cioè da bunti infatti c'era il segno anche dopo un'altra volta cazziatone a casa perché sempre mamma che era un po' il gendarme trovò un pugno di ferro che Fabio aveva nascosto e quindi cazziatone dico perché c'è il pugno di ferro la violenza e basta no perché è per difendermi perché in effetti poi me l'ho scoperto dopo perché ora che è uscito il libro tanti amici di Fabio mi chiamano per raccontarmi episodi della loro vita camminando Fabio per le libia con due amici di sinistra beccarono Francesco Cecchin che poi fu ucciso dopo ma chiaramente non è attinente a questo fatto che andava in giro per il quartiere con altri camerati per dire a quelli di sinistra non puoi far volantinaggio lì non devi far così non devi far colà perché loro facevano magari volantinaggio di sinistra al giro Cesare che invece esteticamente doveva essere il liceo fondato da Mussolini punto e stop e quindi lui aveva un pugno di ferro dicendo se fai così a quest'amico di mio fratello lo vedete il pugno di ferro poi mi tocca insomma e allora Fabio si spaventò molto e disse beh mi sa che torna utile avercene uno diciamo non per colpire nessuno ma almeno per far capire alla controparte che se devi venire vieni però non è che resto lì inerma non fare niente e vabbè comunque era un clima veramente surreale raccontarlo oddio visto quello che viviamo oggi oggi non è poi così surreale ma diciamo che rispetto agli anni 80 vissuti da bambino appunto del secondo capitolo erano veramente così forti che ti direi che finché io non sono diventato adulto siamo stati due fratelli sì ma un po' due figli unici per citare Rino Gaetano ma sai poi l'altra cosa è che Glenn e 70 sono stati molto raccontati sia nei libri sia nei film anche ho fatto anche alcune serie però diciamo che questa è più un racconto a livello di vita quotidiana di una persona normale che però viveva in una situazione che non è normale questa è la specificità io adoro questo tipo di racconti anche da quando sono piccolo siccome sono cresciuto con mia nonna io amo gli anziani da quando sono piccolo e qui tra un po' amerò me stesso anche più che mai perché ho visto che l'età passa no perché fanno dei racconti stupendi dei grandi fatti della storia però giustamente dal loro punto d'osservazione cioè che come diceva De Sica alle storie minori mia nonna che raccontava il fascismo visto da lei cioè io volavo perché sì ok poi lo studia a scuola c'è i grandi scontri chiaramente tu prendi una posizione in un senso o nell'altro poi ti accorgi che declinato al quotidiano cioè non è tutto così boom netto è tutto continuamente mescolato dove poi certi rapporti umani anche nel massimo momento di tensione di un paese di una guerra civile esurano da certi percorsi e poi si ritrova alla fine un senso di umanità cioè lei mi raccontava tipo c'erano questi soldati tedeschi alla fine poveracce come poveracce lo so guarda da mesi in là al freddo non c'hanno più niente da mangiare sì ci hanno rubato qualcosa però alla fine c'hanno talmente pietà che gli portavano due patate gli ho fatto tu aiuta i tedeschi ma guarda erano proprio giovani avevano 18 anni delle facce oppure cioè è una verità anche quella capito certo sì sì questa poi tra l'altro trova il suo territorio delle lezioni nel letterario nel romanzo perché forse è la forma d'arte che più è attrezzata per cogliere le sfumature che stanno poi anche sotto le ideologie e i blocchi al modo di dividere il mondo giusto sbagliato e tutto se c'è proprio un mezzo artistico per cercare di andare fra questi sbarramenti proprio il romanzo sì sì non hai gli obblighi di un libro storico diciamo riesci invece a raccontare il lato più umano empatico che c'è e poi comunque che ti piaccia o meno è un racconto vero di una persona quindi è andata così infatti i diari mi piacciono molto in questo caso diario tucur non è perché ci sono alcuni momenti salienti della vita di Fabio di Tommaso quindi è più un memoir o diciamo due romanzi di formazione dove poi ognuno racconta una parte di sé e alcune volte si intrecciano a volte per contrasto a volte invece per affinità sì sì beh e tornando alla tua analista quindi tutto questo immagino sia legato no? cioè no diciamo copertina no io poi non c'ero mai stato però insomma dopo un fatto così volevo fare un attimo una piccola elaborazione oltre che artistica anche un po' più così quale fatto dici? no no il fatto della scomparsa ah quindi è una cosa recente questa ah sì sì recentissima no no perché si analizza sempre ogni eventuale problematica no? conflittualità che uno ha sempre in dimensione verticale no? il rapporto di figlio con i genitori invece quella orizzontale non viene mai analizzata e non capisco perché invece siccome io e mio fratello siamo stati diversi assai ma a volte anche assai complementari in queste differenze di età generazione e compagnia cioè volevo fare un po' più luce anche sul rapporto per fare luce su di me e una lettura interessante c'è stata nel senso che quel mio modo di fare musica così punk all'inizio no? per cui andavo sul palco e urlavo anche ah per due minuti fino a perdere la voce apparentemente senza senso o comunque diceva questo è matto perché poi dopo sarà all'università con gli occhialetti studia rigoroso c'è anche un passaggio molto divertente nel libro quando andate a Rimini a un concerto di sangue misto sì che poi è il finale del libro il primo concerto fuori Roma e siete i selvaggi arrivati da Roma sì sì i selvaggi io poi più di tutti ed era a contrasto perché poi sembravo cioè probabilmente super duale e no era un modo proprio del corpo cioè di reagire proprio fisicamente a un clima e una tensione che magari si respirava che poi non riuscivo a far emergere in maniera più equilibrata e quindi questa emersione era a mod di geyser quindi per me quell'elemento palco quando andavo lì è come se stappavi una bottiglia di champagne boom poi l'effervescenza diciamo durava il tempo di ristabilire un nuovo equilibrio e stavo tranquillo fino alla settimana successiva però ecco questo effetto di compressione poi esplosione sicuramente la parte appunto di riuscire a tirare fuori anche perché magari rispetto a mio fratello ero più timido cioè lui è più riservato e schifo dopo e meno da ragazzo io invece è il contrario poi con la musica ho sempre riuscito a far fluire tutto quello che dovevo far arrivare alle persone e tra l'altro sempre meno la maschera e sempre più la persona sempre più Tommaso e meno diciamo Piotto perché invece la maschera all'inizio mi serviva per questo motivo perché non avendo il coraggio di mettermi a nudo come faccio ora su un palco e non avevo anche le capacità tecniche indossare una maschera mi permetteva comunque di stare davanti a duemila persone dicendo ci state sì vabbè c'è sto io fisicamente anche un po' caratterialmente ma dando diciamo il meglio o il peggio il peggio di me o comunque una parte divertente che ti permette come tante volte è successo artisti romani sì comunque era anche una maschera creativa perché adesso probabilmente la maschera nel rap esiste ancora però è molto legata al dire di avere più soldi di quelli che hai in realtà ah l'ora è il contrario l'ha presa per il culo di queste cose che in Italia per fortuna non c'era ancora ma c'era già in America quindi il tavolino al privé nel club con lo sciampagnino le cose che mi fece troppo ridere quindi va a cagare e quindi però siccome mi piace sempre provocare in maniera creativa è comunque un po' di battuta sfottò non lo scontro diretto perché lo trovo un po' banale e comunque questa è la mia città stilistica su queste cose cioè mi metta a nudo in maniera autorale come sto facendo sempre più come la notte infame oppure se ci divesse un attacco non è il dissing che mi sa la piccola rissa brutta anche se in quegli anni andava tantissimo adesso non seguo più molto la scena rap immagino che esista ancora però in quegli anni era molto anche perché forse era più underground sai quando paradossalmente quando una cosa non ci ho mai avuto dei dissing mi cosa quelli storici neff e tormento ne sa sempre neff e jax ma i sangue misto spesso perché ero il gruppo più figo che c'era sinceramente sei nell'obiettivo i più bravi di tutti cioè guarda l'altro giorno stavo a Bologna per il live mio hanno messo prima del live i sangue misto ho detto porca puttana ma sembra uscito venerdì come ascolta sembra uscito venerdì è una bomba sì sì e beh certo ma sia a livello di produzione che anche no ma poi il flow la musicalità il senso della musica noi eravamo appunto più da osteria cioè punchline rima quella boom cioè divertente urlata proprio in maniera un po' più divertente ironica sguagliata la mia o in maniera un po' più hardcore magari il colle però comunque era questa tecnica romana un po' appunto della rima effetto invece loro c'era la rima effetto c'erano anche tanti incastri c'era la musicalità c'era il ritornello la produzione cioè c'era un livello musicale notevole sì anche poi nei due dischi successivi di Neffa con Deda anche a Ra cioè si sentiva che rispetto a noi loro specialmente Giovanni aveva un background ma anche gli altri anche Rafter però lui avendo fatto tanti percorsi musicali aveva un approccio da musicista cioè come ho anche io adesso però adesso da un po' di anni non allora allora datemi una base la sfondo invece lui si aspetta tonalità arrangiamento produzione come la vestiamo cioè tanti ragionamenti in più che io non facevo era un datemi un qualsiasi beat anche perché poi nei beat magari ci sono delle note che tu non hai preso in costume sì che non vanno bene ma era tutto ritmo capito devo cantare là ma ci sto ma chi se ne frega dei ritornello l'importante era la strofa cioè per noi ritornello manco li facevamo i primi pezzi non c'erano ritornello sono strofoni cioè poi la giamaicana giri il disco e dietro c'è la ah poi sai che facevamo siccome non c'era modo di fare le basi cioè costava tanta per uno studio cioè dovevi anche saper usare le macchine ma insomma roba di 50 60 milioni di lire cioè una cifra importante e noi prendiamo queste basi americane che era il lato B strumentale soltanto che c'era sta regola oh l'ho comprato prima io quindi è mia tua ed è sua dell'americano però quelle più fighe dici no non è solo tua cioè questa è troppo figa la uso pure io e quindi c'era questa sorta di alla giamaicana una gara sempre da virgolette a chi sapeva cavalcare meglio e aveva più flow sulla stessa base come se fosse il rhythm dei giamaicani in cui c'hai dieci solo anzi più va di moto e più lo fanno tutti a vedere chi più riesce a rendere l'originale sì l'altra cosa un'altra cosa che vedevo leggendo il libro che tu all'inizio e poi sono andato a vedere che alcuni di questi pezzi un po' più antichi li hai caricati anche su tuo canale youtube sì l'ottavore si chiama non perché io aspiri a questo ma perché mi sembrava giusto a livello di titolo di grafica che infatti ha fatto masito del colle ricordare proprio il mood di quegli anni là e c'era sta cosa di aver nottavo colle rumo solo l'ottavore sì sì c'era una forte influenza ragga del sola anche no? poi stavo fissi sì perché a scuola come racconto nel quarto capitolo che sono i miei anni 90 e quindi rispetto al 77 di fabio politicamente diciamo è la pantera che risponde le occupazioni la musica però è una forma sicuramente molto più leggera cioè seria però comunque ecco non violenta e anzi musicale tanto che a scuola a parte io che faccio rap il colle che era in scuola limitrofe ma viene là fuori dal Giulio che è sempre stato un grande liceo accogliente quindi venivano tante persone anche da fuori però vede invece sui banchi di scuola accanto ai miei brusco e la villa da posse dare vita alla scena regga romana pochi mesi dopo ugualò fai paua che è stata la prima che tu pure sta cosa era figa perché a me mi piaceva un botto quindi ascoltavo regga dancehall regga maffi e poi anche il rap e poi cercavo di unire una grassi tra le due però il rap ti piaceva di più mi piaceva di più come scrittura però le basi a volte erano un po' scure molto cattive invece il ragga c'ha sta cosa che comunque per il tipo di ritmo e disegno ritmico manteneva una dimensione che a me piaceva molto appunto quella un po' più party cioè che si può ballare pur dicendo cose dure senza sottolineare la durezza delle rime anche con capito? infatti non so qua a Roma ma prima al nord prima diciamo che il rap diventasse pop alle jam non c'erano donne praticamente forse anche per via di questa cupezza anche c'erano delle ragazze però poverine erano praticamente costretti perché la fidanzata di piuttosto che qualcuna faceva un po' di breakdance e qualcuna tipo una crew che si chiama 00199 come il cap del nostro quartiere faceva street art dopo graffiti diciamo però rap c'era una ragazza fortissima con assalti si ux poi c'era a torino poi c'era giudy p che cantava con noi però diciamo era la pila ma insomma 5-6 nomi forse anche per questa cupezza che comunque le den solo sono sempre state più allegre soprattutto in quella fase no si si beh c'era infatti la di Flavia con la villata che lei cantava e stava nelle nanzole e tu super caffone non volevi proprio farlo in realtà all'inizio come singolo è giusto? no che per me l'avevo già fatto nel senso che nel primo album di nuova versione che si chiama super caffone 1996 e io l'avevo messa come bonus track dicendo al mio produttore di allora Claudio guarda io la metto perché è la prima canzone che mi ha reso conosciuto a tutti cioè quella canzone ogni volta che la facevo la gente sbroccava ma anche se rispetto a quella poi famosa e nota a tutti era parecchio differente però insomma di fatto già il titolo piaceva vabbè quindi metto cioè tre versioni esistono quella che sta solo su cassetta di allora versione 95 poi la versione 96 che è uscita su disco come bonus track poi quella che conoscono tutti la versione 99 perché Claudio dopo un paio di singoli mi dice guarda siamo arrivati a 8000 copie dell'album facciamo 10.000 col singolo nuovo ti fai il tuo il tuo primo tour estivo e siamo tutti contenti io dico ah figo e che singolo facciamo che abbiamo già fatto roba covatta e la valigia che è invece quello più serio d'autore sui migranti che c'erano già le mie due anime ciclico il filo dei manetti era quello un po' più intimista introspettivo la valigia era quello un po' più sociale però poi c'erano anche quelli divertenti tipo roba covatta e tra l'altro avevano questa forza proprio anche ritmica del poter essere ballati cantati da tutti anche a chi non ascoltava il rap perché appunto c'era un linguaggio che arrivava nel quotidiano almeno a Roma sì scusami perché ciclico era un'altra cosa spiazzante cioè questa è la persona che fa spingo io fa anche ciclico sì ma si capiva subito infatti che c'era uno squilibrio però diciamo che secondo me se prendi la mia discografia è molto bello io apprezzo molto quando perché in Italia poi c'è molto la tendenza infatti se prendi la mia discografia la smarmelli in due blocchi diciamo uno lo chiami Piotta e uno Tommaso Zanello cioè per esempio il live che faccio adesso è così cioè nel senso siccome una notte infame è un disco molto introspettivo oscuro anche da un tempo lo show che dura comunque un'ora e tre quarti con i visual e tutto però ha un tipo di arrangiamento è scelta di scaletta per cui c'è la valigia ciclico sempre là il pezzo di Sanremo del 2004 la troete un pezzo con Igor Veleno che ognuno con un primo bravo ognuno con un sé cioè cose che io ho fatto anche molto vecchie che però sono rimaste un po' sepolte schiacciate dal lato invece quello più immediato perché chiaramente pezzi come Robocato Super Capone l'ascolti cioè o non ti piacciono dici boom cioè diventano subito virali non c'era internet ma c'era le cassette c'era il passaparola come sempre e vabbè insomma il mio produttore mi dice no no vorrei fare Super Capone dico Claudio ma Super Capone è vecchia del 96 cioè siamo nel 99 ormai andata poi il romano ma chi l'ascolta il romano in radio pensa se mo' a Milano passano nel romano c'è impossibile mi fa vabbè devo fare una cosa intanto tu vai a casa lascia tutto uguale base ritornello comunque cambia pochissimo e scrivi le strofe ma divertiti così ti diverti e la incidiamo poi se ci piace bene se no chi se ne frega vabbè vado a casa mi metto a giocare con le strofe dico già che ci sto se dobbiamo fare la cosa romana facciamola bene quindi mettiamo Verdone mettiamo Alberto cioè mettiamo le cose più note Califano e vado in studio miglioriamo un po' la base ricanto di tornello ma insomma sostanzialmente è quella gliela riporto la metto in play già dopo la prima strofa vabbè andata hit che si abbiamo hit ma dove sta sta hit questa è una hit fidati vabbè allora lui lo manda le radio trova il distributore che ci dà una mano per arrivare a un mercato più ampio organizza il videoclip cioè io porto i manetti in quanto amici in dote come registi lui organizza la parte produttiva insomma facciamo sta canzone in sto videoclip e in 14 giorni senza internet scoppia il delirio io facevo il servizio civile c'ho una signora molto carina però molto austera quindi io ero sempre in ritardo ora mi dirai anche oggi e praticamente mi dice eh però zanello guardi però io abito cioè a conca d'oro sto venendo a porta portese cioè sono 25 minuti di motorino non è facile la mattina eh vabbè vabbè come il pezzo fa il botto Tommaso carissimo eh scusi spari tardo oh non ti preoccupare ma quando devi finire dico eh è tipo il 25 maggio ma non c'hai concerti eh sì c'ha vari concerti non sto aspettando di finire uh ma non ti preoccupare il 25 aprile facciamo un mese prima poi vai si può fare sì sì ma così non so quelle cose che dici boh ma è un mondo dei pazzi nel senso che te comunque come sei cioè anche senza chiederlo tu sono sempre 6 persone però sì è capito quindi cioè tu un po' sei anche contento un po' dici però perché cioè non è sì sì no capisco è strano certo ma è che avevano cominciato a girare sulle radio lì quindi la canzone no ma no perché quello che ma c'era videoclip su video music cosa era sì quello che io dicevo ma figurati se a Milano le radio invece come spesso accade a Milano amano noi di Roma infatti si stupivano quando raccontavo che mia madre fosse di Milano in realtà pensate e DJ partì a manetta in TV partì a manetta erano delusi no erano ma tanto sono sempre quello di ciclico quindi in qualsiasi cosa vi troverete una metà apparentemente conflittuale con l'altra invece secondo me come dici te se capisco bene però mi sembra di aver capito bene cioè tutto ciò non perché sono io cioè vale per tutte le persone sono tutti valori aggiunti perché è come se una ricetta che lì per lì c'è la sua forza poi però mentre continua a mangiare assaggiare scopri come i vini senti il sapore quello più deciso però poi ne ha tanti altri che vanno a rafforzare anche a fare da contrapunto a quello su contrapunto potrei anche smettere di parlare perché è bellissimo è uscita così però è più musicale però girava bene e quindi da lì hai fatto un sacco di concerti insomma è cambiato professionalmente è cambiato tutto il tour che dovevo fare d'estate di 15 concerti è diventato di io in 90 giorni ho fatto 77 concerti cioè a Ferragosto l'ho saltato perché avevo la gola spappolata con la febbre perché non sapevo ancora scaldare la voce usare il diaframma quindi poi mi sono messo come ho sempre fatto e come continuo a fare come è giusto che sia a studiare quindi lezioni di canto capire meglio un po' di cose di più della musica avere uno studio con tutti gli strumenti per capire i suoni perché poi te parli con musicisti mettiamoci l'organo Hammond ah figo ma che suono c'ha no devo sapere il suono che è se mi relaziono so anche quello che è giusto in quella produzione per sottolineare emotivamente le parole una cosa assurda che ti è successa in quel periodo proprio subito dopo Supercafone che ti ricorda no ma sono ti giuro milioni le cose assurde le cose impensabili cioè ti dico solo una cosa poi non so perché il mio telefono siccome era quello con cui vendevamo mixtape ce l'avevamo tutti cioè tu avevi il tuo telefono sui mixtape c'è il tuo numero dovevamo venderli e quindi si usava tipo su L c'era l'annuncio mixtape roba covatta così c'era proprio il telefono ah ed era il tuo proprio sì il mio di squarte e praticamente no ma so tantissime però il volo che me lo chiedi la prima che mi viene in mente non so perché è questa mi chiamo da Milano dicendo senti ma tu verresti alla settimana della moda e ho fatto a fare cosa no a sfilare ho fatto scherzo no perché è figa come idea che la cosa mediatica era viene lui piotta sfila la fashion week poi ho detto guarda senti c'era la moda non mi ha interessato la fashion week di meno pure e quindi ti ringrazio cioè noi parliamo manco parliamo dei soldi perché non mi interessa proprio beh sarebbe stato divertente però no ma tutto è divertente però poi alcune cose ecco per esempio il film lo feci perché da romano cresciuto come racconto pure nel libro spesso in giro con mia nonna a fare la spesa piuttosto che al parco girare per i quartieri e vedere tante volte dei set di cinema che ne so per esempio Paolo Villaggio spesso perché abitava nel nostro quartiere c'è un altro ricordo perfettamente a piazza Caprera all'uscita delle scuole medie vedi girare cioè io vedi girare Paolo Villaggio con un altro attore e vabbè quindi con tutti i bambini la fantozzi e poi i fantozzi erano girati a Roma no? sì sì poi in questo caso scoprì dopo era Fracchia contro Dracula ah ok infatti c'era la carrozza quella antica c'era lui vestito d'epoca però poi andai al cinema e c'era sta scena ho detto morca io stavo là che figo il cinema cioè tu vedi il film da bambino non è che pensi tutto quello che c'è attorno perché non lo sai invece poi sei in un set quindi quando poi vedi la scena e quindi tutte le altre ti immagini ah funziona così sì e poi c'era questa cosa una volta perché tu non producevi immagini cioè come adesso tutti fanno loro film con i telefoni no? i loro piccoli estratti piccole clip fotografie sì sì ma al tempo cioè c'era il monopolio del video nel senso per finire in video dove andare in televisione nel cinema sì sì non c'era una cosa quasi metafisica no? sì sì era proprio una magia esatto cioè passavi dall'intangibile al tangibile però poi si mescolavano c'era questo effetto proprio di creazione e quindi era cioè era è affascinante perché il cinema chiaramente è super affascinante quindi quando mi proposero il film anche se avevo insomma più di un dubbio dissi però ammetti che poi non mi ricapita rischiamocela tra l'altro facemmo questa sceneggiatura scritta con i manetti carina ma l'idea originale invece sarà scritta da Fabio si chiama B&B si sarebbe svolta nel 2000 come da giubileo quindi questo nipote un po' scapestrato c'è anche studioso però un po' fricchettone che convinceva l'anziana nonna a affittare le stanze della sua vecchia casa Umbertina cioè quindi mio fratello con mia nonna nostra nonna cioè la storia era quella ha una umanità chiaramente diversa multietnica e variopinta rispetto a quella abituale di Roma tra l'altro precedendo di 25 anni 20 anni quello che poi a Roma oggi però allora solo l'esquilino era un po' così multietnico non c'era come adesso che tutta la città lo è e penso a quartieri che poi lui infatti non a caso ha scelto come suo habitat naturale come torpignattare dove poi ho fatto lo studio e l'ufficio grande onda dove l'ho scritto tutto il libro e tutto il disco lì dove era casa sua adesso tu hai lo studio se non mandava di affittarla venderla ho messo sede con lo studio che avevo anche con le cose sue e mie di libri vinili e dischi e volevo appositamente scrivere tutto il libro e tutto il disco lì scrivere o raccogliere le parti appunto che lui aveva scritto in questo libro una cosa interessante del libro ce ne sono tante ma diciamo a livello umano è che alla fine appunto come hai detto tu eravate un po' due figli unici però hai scritto questo libro anzi hai messo assieme questo libro con la tua parte e la sua adesso mi dici questa cosa dello studio cioè chiaramente in realtà il legame era fortissimo tra voi sì sì era fortissimo ma se è che in tutte le famiglie c'è sempre un po' un gioco delle parti no? per cui c'è il genitore quello un po' più il puliziotto cattivo diciamo quindi nostra madre chiaramente cattivo da virgolette era un po' più così che poi alla fine se c'è da prendere o dare un ordine era un po' lei papà viceversa era un puliziotto buono cioè nel senso che chiaramente si relazionava con lei però a volte diceva tu madre ha detto così però non ti preoccupare tranquillo ci penso io è un po' più ragazzino poi sempre mia madre di Milano papà di origine frulana però romano nei modi sempre con la battuta pronta un personaggio pazzesco e un po' anche questo schema si riverberava a livello di figli cioè Fabio era quello un po' più casinaro oddio che ha fatto Fabio ma stavolta che ha combinato oddio un altro casino io quello mammo vabbè che è il mio soprannome da piccolo ti prego pensaci tu sistema sta cosa va bene arriva il riparatore qui c'è il distruttore e il riparatore chiama Fabio oddio che è successo chiama Tommaso ah che bello chissà che bella notizia ci darà anche perché io tendevo e da lì anche la cosa che ti dicevo del palco ma sempre ma anche adesso però da piccolo la provo tantissimo tutta un po' la merda la tenevo per me e tutto il meglio lo davo fuori perché mi sembrava in qualche modo li vedevo un po' appesantiti dalle vicende della vita per cui dicevo vabbè non ci metto il carico pure io cerco anzi di alleggerirlo e chiaramente è venuto meno Fabio e in realtà anche i genitori ma in questo caso Fabio posso anche riappropriarmi del mio lato un po' più così riflessivo sì o quantomeno non è che l'ho mai perso però l'ho sempre tenuto un po' in disparte invece di ribaltare gli addendi rimanere anche la personcina brillante simpatica ironica che a volte sono però dare a tutti la mia completezza che include anche questo lato sicuramente più malinconico aggettivo che io adoro dall'altro e rispetto a quando ero piccolo che pensavo vabbè ma questa gente si rompe le palle è inutile meglio una cosa divertente cioè io stesso ero convinto che ma non è così perché poi ascoltavo i cantautori e quindi in realtà mi piaceva quel lato più intimo e malinconico tu mi fai dire cose che peggio è il divano il divanetto è tremendo è tutto studiato è fatto apposta si 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 tra l'altro ha un altro passaggio divertente del libro quando paparichi vuole picchiarti si che poi in tutto ciò manco mi accorgo di sto casino che io stavo cantando a Bologna che poi il primo live fuori Roma è Bologna il secondo è Rimini Indelebile e poi appunto la finisce perché da lì esplode già un po' chiaramente in ambito hip hop il mito Roma Piotta Colle sono pazzi selvaggi e arrivo alla Bologna faccio i miei pezzi hip hop ragga ma stando a scuola con Brusca e la Villata quindi li conoscevano anche loro e tutti conoscevano la mia autoironia oltre che ironia e quindi dico sono il re del ragga romano lui ascolta da me questa cosa non mi conosce conosce Brusca e la Villata e Wallop dice ma come cazzo si permette questo a dire che è il re del ragga romano quando certamente non è lui e sono altri amici miei quindi a difesa dei miei amici devo intervenire e incazzarmi e eventualmente anche piccarlo e quindi cioè con che imbruttigli e quindi Ice One e gli altri dicono guarda è matto non ti preoccupare cioè tu senti quello che dice ma puoi anche non sentirlo cioè è tutto ironico è tutto esasperato è tutto fumettistico perché a me sta cosa appunto del c'è la vita vera con tutti i suoi problemi cazzo vado sul palco e invece mi disegno un mondo tutto mio cioè tipo zero calcare cioè il mondo è vero però è come lo vedo io cioè non io pretendo di essere oggettivo è il mio punto di vista è come se lo guardassi da un caledoscopio da un vetro cioè se è quello ma non mi permetto di dire che è assolutamente così è solo il mio semplice e modesto dell'arte diciamo e sta cosa invece ci metteva sempre un po' a passare insomma cioè ci metteva ci ha messo ci metterà però insomma poi per fortuna c'è il tempo diciamo dalla propria parte per chi può può averlo e e il fatto anche di essere comunque piuttosto prolifico e anche versatile sia come tipologia di racconto narrativo nelle canzoni che anche come tipologia di mezzo perché la canzone è uno il live è vicino ma è più ampio il libro è vicino ma è diverso tra l'altro è molto più duro a scrivere i libri beh diciamo io non ho mai fatto musicista ho fatto DJ per un periodo da ragazzo però non è la stessa cosa ovviamente che fare è veramente musica e il libro è una cosa di diciamo da maratonetta un po' non è uno scatto molto pericoloso il libro solo il libro è un percorso io quando ho fatto musica l'ho fatto istintivamente i libri avevo scritto qualcosa più in ambito musicale proprio perché poi non non mi interessava creare anche quei sai quelle dinamiche familiari per cui facciamo due persone la stessa cosa a volte succede padre e figlio Fabio faceva lo scrittore io la musica a posto così ognuno aveva il suo spazio creativo Fabio era più schivo e riservato quindi non riusciva ad andare sul palco davanti a tutti cosa che invece io prima con una maschera poi invece anche così a nudo riuscivo a fare riesco a fare però ho notato che in questa scelta Dio l'ho dato che mi diede la forza di litigare anche con i miei in realtà molto più con mia madre rispetto a poliziotto buono padre di avere la forza di imporla perché con la musica ti sfoghi tanto c'è anche il lato proprio sia emotivo quando scrivi emotivo già collettivo quando vai in studio perché poi quello che tu hai scritto lo condividi con altre 3-4 persone per la stessura del brano e poi collettivo di massa o comunque che siano 500 o 50.000 persone comunque insomma ad ampio spettro con tante persone anche fisicamente sul palco cioè tu sudi viaggi ti muovi cioè è proprio una scossone anche fisico che dai la tua emotività che sei costretto a dargli invece il libro l'ho trovato molto più pericoloso a livello psicologico cioè è paludoso cioè tu tiri fuori ma sta lì è come se levi l'acqua col fango e dà la cucina e la metti in salotto non la butti fuori capito invece con live tu proprio poi quest'acqua va via questa diciamo l'acqua nera se ne va è lontano da te e te magari poi ne hai alta e la ridiri fuori si si capisco come dire è catartico ma al tempo stesso io penso che per scrivere a meno per quanto mi riguarda per cercare di scrivere una cosa bella rilevante non devi pensare al pubblico mentre la scrivi poi dopo è ovvio che la scrivi per quello andrà poi le persone le persone le persone lo leggeranno lo interpreteranno come vogliono loro perché poi l'altra questione della letteratura è che ci vuole sempre un interprete dall'altra parte cioè tu non puoi sapere cosa sarà fatto nel tuo testo e va bene così però se ci incomincia a pensare troppo mentre scrivi quello è una garanzia che non in tutto questo progetto io ho pensato zero forse per quello sta funzionando tanto anche il disco perché poi alla fine come tutta l'arte anche se è inspiegabile proprio perché non c'è una regola se le cose le sai fare chiaramente però ti lascia andare sta cosa arriva però mentre il disco in qualche modo pensavo che sarebbe uscito perché diciamo è il mio lavoro è molto più di un lavoro però è la mia il fatto che ogni due anni esce un album poi c'è il tour non voglio come la routine perché è un termine che proprio non si addice a un lavoro così appassionato però insomma è il mio percorso così diciamo naturale il libro è qualcosa di diverso di più di non previsto e infatti quando ho cominciato a leggere quello di Fabio appena automatico come se raccontasse a lui in maniera metafisica la mia adolescenza che comunque lui conosceva più della mia perché avendo 10 anni in più lui già c'era come testimone oculare anzi in realtà poi non c'è scritto ma anche il nome Tommaso l'ha scelto Fabio e praticamente io non pensavo di farne un libro poi a un certo punto dico però magari faccio un piccolo test lo faccio leggere a qualche amico scrittore per cui mi dispiace darti questa nuova novella che d'ora in poi sarai messo in mezzo anche tu no lo mando a un po' di amici ma tipo 3-4 e mi dicono mazza guarda che bello voi dite che è bello per farmi contento perché è molto emotivo il libro perché pensate che davvero possa essere un libro quelli veri con la L maiuscola che c'è un editore che viene ma no perché noi pensiamo che possa qui che faccio mando manda tra otto anni mi risponderà qualcuno e invece dopo otto giorni la nave di Teseo sempre otto sì sì è una cosa di una settimana inclusi i giorni lavorativi dopo pochi giorni mi risponde la nave di Teseo nella persona di Elisabetta Sgarbi e mi dice posso mandarle una mail se mi dà l'indirizzo a commento appunto del libro che ho ricevuto grazie che l'ha letto infatti dice boh magari mi dirà che pure lei che non è male magari di migliorare alcune cose invece scrivo una mail e che dico vabbè ah dico ma che cazzo scrive che cazzo ho scritto e tanto che al di là delle altre risposte arrivate così io poi mi piace talmente così l'approccio emotivo anche dalla controparte della controparte cioè di questa mail di come arrivata che poi non aveva il mio numero quindi tramite un amico e che dì no vabbè figo però espongo allora il mio problema che hai detto guardate io però esco a marzo con un disco molto intimo che se volete vi mando anche in anteprima che comunque si lega al libro perché c'è il fatto di mio fratello e tutto quanto sarebbe bello un progetto che unisce le due cose ha fatto certo però lei ci parla di marzo oggi è tipo fine ottobre cioè nella mondo dei libri è una cosa inconcepibile cioè almeno un anno infatti va bene anche un anno però io ve lo dico per correttezza se poi vogliamo unire le tempistiche per me è un valore aggiunto perché tanti fanno il libro tantissimi fanno i dischi fare disco e libro comunque congiunti perché sono legati assieme credo che lo fanno in pochissimi quindi sarebbe un valore aggiunto molto bello poi alcune canzoni sono proprio cioè a livello emotivo sono legati il libro è a un continuum 75-95 con un appendice anni 2000 chiaramente è molto più descrittivo perché in prosa le canzoni vanno più per evocazione di un fermo immagine però alcuni tipo Serpico è un fermo immagine preciso sia a livello musicale che a livello di narrazione sì perché Serpico è un po' la svolta cioè non la svolta ma uno dei punti d'ancoraggio diciamo così del libro perché questo poliziotto tra l'altro sai che io ho conosciuto il vero Serpico una volta a New York non a New York vicino a New York che sono andato intervistarlo è un personaggio incredibile ma è invece questo Serpico che era diciamo la versione italiana soprannominato immagino è un poliziotto che viene viene ucciso vicino a casa tua padre di un bambino che tu vai a scuola di due figli una bambina e un bambino e il bambino Federico cioè bambino però ovviamente c'è l'età mia Federico è nella classe accanto alla mia l'elementare cioè succede che io sto a scuola come tutti i giorni arriva la maestra cioè esce la maestra rientra e ci dice bambini oggi abbiamo già avvisato i genitori e le nonne andiamo tutti a casa prima non vi preoccupate però dobbiamo andare a casa prima perché è successo un fatto brutto tutti ah che è successo Federico nella classe accanto ha perso il papà che ti dice ah poverino perché pensi no che sarò io che perdevo papà poi dici pure vabbè quindi ogni volta che muore il papà di un bambino siamo tutti a casa comunque poi ve lo spiegheranno i genitori così allora io esco viene mia nonna perché i miei lavoravano e mi portavano la mattina la mia nonna fino a sera quindi vedo nonna e dico nonna che è successo andiamo di corsa a casa ambulanze cose sirene adesso è pericoloso così andiamo subito a casa comunque è una cosa da grandi poi te lo spiegavano papà dico nonna ma Fabio quando viene perché poi pranzavamo assieme cioè gli elementari Fabio al liceo io uscivo a mezzogiorno e mezza lui a luna e poi lo aspettavamo e mangiavamo assieme e Fabio no Fabio oggi non viene ma perché non viene c'è sempre è una cosa da grandi poi te lo spiegava arriva papà ah papà come che sei venuto e non mamma perché veniva sempre mia madre eh perché mamma sta a casa ma perché che è successo poi te lo spiega mamma dico ma non mi spiega niente nessuno qua quindi andiamo a casa poi arriva la Dicos perché comunque Fabio è stato il primo a chiamare il 113 poi dopo però questo l'ho scoperto dopo lui non l'aveva scritto era anche nel cioè si è trovato nel punto di fuoco del poliziotto ferito cioè non serpico che è stato purtroppo ucciso ma gli altri due feriti tanto che lui sentendo questi spari si è buttato a terra con la vespa e tutto e poi era diciamo in traiettoria con uno dei proietti dei partiti e quindi cioè volevano sapere perché era lì in quel momento esatto perché aveva chiamato lui se c'entrava qualcosa da una parte o dall'altra con tutto sto casino sapendo anche gli studenti che erano magari un po' più esposti politicamente però quando viene la Dicos essendo Dicos citofono vogliono salire sono in borghese cioè non in divisa e poche settimane prima avevano ucciso nel quartiere Valerio Verbano a casa sua salendo armati e l'avevano legato i genitori avevano aspettato che entrasse Valerio e l'avevano freddato quindi mio padre fa Tina che è il soprannome di mamma Maria Antonietta Tina Mamo che è il mio soprannome chiudetevi in camera mettete dietro un letto quello che potete cioè perché mia madre doveva spostare le cose io avevo sette anni se qualsiasi cosa sentite lotte urla spari così non aprite stanno a parlare di casa mia o di un altro posto quindi ma perché che può succedere no perché non ti preoccupare non succede niente però per sicurezza perché poche settimane fa hanno ucciso un ragazzo come il tuo fratello a casa sua dicono hanno ucciso un ragazzo come Fabio cioè quindi tu vivi in un mondo che non riesci proprio a capire lo subisce e basta perché cioè poi provano pure un po' a spiegarti ma come fai a spiegarlo ragazzi noi sette anni cioè spesso stavo in balcone con mia madre essendo quello piccolo sempre ma Fabio quando viene Fabio è più grande sta con gli amici ora viene però lo aspettiamo in balcone mamma io ho fame sono le 9 quando sta aspettiamolo perché poi io sto sicuro che rientro a casa sano e salvo ma perché che succede fuori è un po' pericoloso questo periodo ma tu non è che conosci il periodo prima quindi tu dici questo periodo questo è l'unico periodo che conosco quindi forse tutta la vita è così chiaro poi comunque alla fine era veramente la Dicos in quel caso no era la Dicos no dopo poi sono uscito pure sono stati carini con me cioè mi ricordo ma ti giuro erano due li vedevi dici mamma mia c'è davvero paura c'è proprio facce brutte perché erano tutti quelli dei servizi giganteschi c'era mano non so vabbè ero piccolino quindi c'è questa visione sta mano così tipo e comunque mi hanno tranquillizzato però ecco già il fatto io tra l'altro sta cosa l'avevo mezza rimossa cioè non l'ho mai dimenticata ma era un po' lasciata lì in qualche angolo remoto della mia mente poi invece più scrivevo e più emergevano cose però alcune cose emergevano fisicamente cioè le copertine delle demo per dirti come ti ho raccontato prima dagli scatoloni altre emergevano invece a livello così proprio emotivo e quindi mi ricordavo di tanti dettagli ma io questa scena la voglio disegnare ma tra l'altro tu racconti appunto anche quello che dicevi prima cioè il fatto di venire un po' da questa infanzia avendo visto fratello ti porta anche in quella direzione musicale con tutte poi le sfumature di cui di cui parlavi prima tra l'altro c'è una scena anche molto divertente in cui tu dici avete trovato spazio nel mondo dei centri sociali che è dove c'era più più libertà e questo è oggettivo però c'è un momento in cui tu inviti una ragazza di un collettivo a una festa stai facendo delle canzoni sull'alcol al tempo ma qua non farete mica andiamo al Branca Leone che è il centro sociale storico del quartiere mio di Montesacro che ancora c'è spero che ci sia ancora mentre parliamo e poi sarà caricato perché sono giorni un po' difficili perché vorrebbero sgombrarlo e che però noi ci piacevamo cioè noi ci andavamo tutti i giorni spesso e ci piaceva come luogo ce lo sentivamo no anche nostro e allora con Simone Massia mi ha detto sarebbe figo fare la prima serata ufficiale Taverna Ottavo Colle qui no noi stiamo in Taverna Ottavo Colle che non neanche fumavamo sa cos'è l'alcol ma l'alcol c'è roba di vino bianco tipo appunto stornelli osteria la sincerità nel vino le battute da stornellatori anche di sfida questo ci piaceva come immaginario piuttosto bucolico allora diciamo decidiamo di chiamarla in vino veritas quindi latino romantica la modernità lo stornello però in chiave rap quindi vecchio e nuovo sempre questi mega mix quindi mescolando shakerando come piace a me cioè classico e moderno il vecchio folk dello stornello però con la modernità del rap poi oggi non è manco più moderno il rap ma allora era proprio qualcosa di esotico in Italia decidiamo di fare questa prima serata ufficiale di cui ci sono anche le immagini tutti gli MC di allora che prendevano il microfono e rappavano le loro strofe e chiamarle in vino veritas chiaramente essendo un centro sociale essendo noi sì abitudinati ma pischelli ci dicono dovete venire lunedì che c'è il collettivo di quelli degli occupanti gli adulti e gli spiegate insomma quello che volete fare quindi andiamo là che farete rap ah che bello rap ma voi come lo fate come un da rossa posse guarda noi siamo più piccoli per carità rispetto perché pure mio fratello politica così però insomma cioè andiamo un po' avanti e vorremmo farlo cioè attirare i ragazzi nei centri sociali perché ci piace quello che fate però con una dimensione musicale è un attimo per cui non è che il testo deve per forza parlare del volantino che viene dato fuori dalle scuole cioè può pure parlare di altro in modo che cioè abbiamo due registri ah beh sì ma tipo ma noi ci facciamo le canzioni divertenti ma divertente non è un male ma tipo ma che ne sono i stornelli eh vino veritas eh no ragazzi è una compagna dice più adulta dice eh ma c'è un problema qua quale eh ma sta inneggiando all'alcol fatto inneggiando all'alcol ma a parte che ce lo beviamo è divertente comunque cioè scusa mi è stata fatta tutti i canni e qua il problema è l'alcol quindi si sono scoppiati tutti i ridi perché era vero e ho detto sì ragazzi c'è l'alcol non è che sta nell'alcolismo in vino veritas e quindi facemmo la prima serata e poi tante altre anzi poi non io però tipo Simone il danno del colle per anni l'ha fatto una serata bellissima che era anche un programma in radio Welcome to the Jungle proprio in quel luogo dove cominciamo e che lui ha continuato poi nel tempo a frequentare dove organizzava appunto questa serata settimanale no questo era per chiederti appunto e invece poi come tu fratello ha recepito il tuo successo con questo genere di canzoni cioè come come l'ha vissuta ma lui era divertito perché chiaramente come quasi tutti non solo a casa mia ma anche in tutta Italia erano un po' basiti cioè nel senso dici ma cioè carina divertente però proprio non pensavo ma io stesso non ci pensavo quindi anche io ero basito che potesse fare il botto così tanto come come lo fece nel bene perché alla fine comunque è un bene una canzone che adoro che poi è una canzone che c'è tutta una vita sua tipo un figlio sta bene fa le cose sue ogni tanto mi chiamo e mi dice guarda ho chiuso un accordo per una sinco ho chiuso l'accordo capito cioè la canzone ormai è come tutte le canzoni hanno un percorso perché non è più solo tua una volta che tu la pubblichi è del pubblico perché poi ognuno dentro ci rivede delle cose che ha vissuto si ricorda di alcuni fatti accaduti che ne so banalmente d'estate del primo amore e due persone si sono messe insieme ascoltando supercafone è successo cioè io ho dato la luce dei figli indirettamente ho fatto un figlio con una canzone tua dico no non mi di supercafone ma no no era sempre là dico vabbè almeno già è d'amore ci sta e però e quindi chiaramente non è più solo tua quando è così popolare e quindi succede che magari ti chiamo un regista un autore uno sceneggiatore così diciamo no vorrei usarla per quel film per quello spot per quella cosa e quindi accadono cose ma mentre anche tu non lo sai cioè lo scopri quando poi si tratta di andare a chiudere ma una delle cose più incredibili che è successa con supercafone forse è la storia del campionato di calcio quella è una di queste e com'è? no è che io stavo sempre col produttore di allora comunque siamo molti amici anche adesso però poi la mia etichetta le mie edizioni poi era il 2003 sì 2003-2004 il campionato di calcio e mi dice c'era ancora il fax c'era le prime mail mi fa Tommaso guarda è arrivata una richiesta per usare supercafone in Giappone come sigla del campionato di calcio italiano cioè hai visto che qua la domenica vedi gli highlights della Bundesliga uguale cioè la versione il meglio della serie A e come sigla quella fantastico allora scherzi a parte non te l'ho detto che non lo faccio scherzi a parte come programma non mi so non mi convince mi sembra troppo fake quindi è inutile che non lo faccio tanto poi non firmo la liberatoria non perdiamo tempo pensi che scherzo ha fatto guarda che è vero vieni qua e ti vedi la richiesta voglio proprio vederla sta richiesta Arioli si vede tipo Sky Japan affirma in inglese affirma del signor Morimoto dico morimoto questo è proprio lo scherzo italiano Sara Cinescu il portiere rumeno Morimoto il corridore giapponese banarotti gli autori su sta cosa mi chiedono Tommaso ti giuro che è vero anzi ti stupirò vorrebbero anche che tu a fine campionato cioè potessi andare a Tokyo a suonare davvero lo stai dicendo ti pagano pure mi pagano pure tutti pazzi a sto punto facciamolo e quindi la sigla è stata data e poi l'hai visto poi il prodotto finale cioè come era nel senso c'erano le lezioni e la canzone sopra non l'hai vista no perché non c'era ancora modo di come adesso di caricare i file così pesanti però sono andato poi a suonare davvero a Tokyo tipo si faceva caldo quindi giugno sarà stato a Tokyo a Shibuya che è il quartiere con tutti i locali in questo club da circa 500 persone c'è anche lo stadio però in questa serata tutta dedicata all'Italia con dei grissini da intingere nell'olio a quello che sarebbero state 5 euro oggi cioè un grissino 5 euro nel 2004 quindi tipo non so 15 euro a grissino oggi però era surreale interviste cose assurdo ma invece poi un'altra cosa meno assurda però divertente bella anche che una tua canzone che ormai è uscita da qualche anno diventa l'inno diciamo così del movimento studentesco a un certo punto la grande onda tutti i miei più grandi successi hanno una vita addormentata cioè nascono per una cosa e poi finiscono per essere dell'altro che lo sono potenzialmente lo sono anche cioè se uno vede in quel testo quella cosa lì vuol dire che c'è pure quella però essendo io l'autore che sono in vita posso testimoniare che non c'è attinenza questa è magia dell'arte diciamo dove ognuno può rivedere cose sproprie in un contesto dove invece la genesi è diversissima io faccio la grande onda che è fortemente autobiografico perché quando uno fa successo ed è piccolo c'è questa ansia da prestazione che c'hanno quasi tutti per cui pare che devi subito comunicare al mondo che non è stato casuale cioè che c'è c'è della bravura e tante cose da dire e questa cosa tu vorresti farla ogni mese se non che i tempi discografici soprattutto di allora erano molto più lunghi quindi succede che tu esci di casa e dopo già 4-5 mesi che questa una hit va scemando tutti te si sente più e te lì per lì siccome sei piccolo pensi che colpa tua non pensi che quello è stronzo perché la gente è stronzo e quindi c'ha ragione me si sente più sono passati due mesi dall'ultimo concetto che è normale sono i cicli della musica oggi sono un po' come dicono anche tanti ragazzi giovani esasperati come vorrebbero gli stronzi però in realtà sono i cicli giusti cioè in un ciclo di creatività c'è il vissuto che diventa semina che diventa raccolto che diventa diffusione e ricomincia il ciclo siccome non è un'industria ma lo fai te non puoi di coprire quattro ruoli insieme cioè servono dei tempi certo anche perché sennò poi non è più materiale ma no infatti che immediatamente a farlo veloce sono due anni cioè se riesci a gestire un po' tutto salvo poi la vita quello che ti riserva per cui per esempio il mio disco che dovevo uscire adesso era un altro disco l'ho preso e buttato tutto ed è diventato una notte infame per fortuna perché mo' è un disco vero sincero del mio stato d'animo ed emotivo che avevo bisogno di tirare fuori quindi nella sfiga di quello che è successo però almeno la mia professione mi consente di viverla in profondità capito cioè nel senso di non lasciare nulla di non raccontato cioè immagini uno che perde una persona così cara e dopo tre giorni tecnici di diritto che hai per il lutto e quant'altro tu torni a lavoro alle poste c'è la vecchietta che ti sbrocca giustamente perché sta in fila e te che dovessi risbroccare la vecchietta e ti hanno come signora ma chi se ne frega dei cinque minuti persi o desta fila e invece io almeno posso tirare fuori tutto quello che sono e che sento addirittura cantarlo addirittura essere ascoltato addirittura chiacchierare con te in questo momento per poi essere visti magari da altri e quindi sono un privilegiato nella sfiga però non lo sapevo all'inizio quindi c'ho costanza da prestazione e quindi per me fare già dover aspettare più di un anno per uscire con un'altra cosa e poi due per un'altra ancora mi sembrava ogni volta una piccola tortura e quindi nella grande onda racconto gli alti e bassi di questo mestiere che sembra che stai appunto super visibile sotto la luce del sole con tutti guardate sta sull'onda così e poi di colpo che non ti si vede più dici ancora vivo è soffocato è annecato che è successo in realtà tu stai sotto che lotti semini fai che è la parte appunto che non si vede per poi cercare di riemergere e così via quindi è fortemente autobiografica e la canzone l'ho anche parecchio bene perché pure quella macina parecchi numeri nel 2002 però sei anni dopo i ragazzi dell'onda cioè del movimento studentesco la prendono come canzone simbolo del loro movimento quindi vestendola di una cosa che mi ha anche onorato cioè molto più collettiva sociale di impegno e di lotta politica tra l'altro anche loro molto briosa così come come stile e quindi ecco prendo una piega collettiva da che invece era fortemente autobiografica sì perché appunto vanno sulle loro gambe queste cose per esempio Sette vizi capitale io la scrivo di notte a Piazza Navona dopo una serata con alcuni amici di Trasteverini tornando verso il motorino veramente era molto tardi quindi c'hai tutta l'umidità sui San Pietrini che erano traslucidi tutti i monumenti di Piazza Navona tra fontane e chiese che si rispecchiavano cioè sta cosa del San Pietrino nero e marmo bianco luci ombre di Roma che io vado molte volte perché si amava pure molto la pittura come se fossi stato un pittore l'avrei dipinta la sensazione essendo invece appunto un musicista soprattutto con l'uso della parola prova a descrivere insomma sto quadro e ne nasce Sette vizi capitale ma a prescindere da quello che poi è successo la metto nel disco mio fino alla bene così la canzone piace anche in ambito romano poi a un certo punto riceviamo una mail dicendo siamo di Catleia produttori su Burra prima serie Netflix vorremmo usare la canzone in una puntata voi siete insomma sostanzialmente d'accordo poi capiamo i dettagli io dico ma una puntata insomma la vediamo tante persone e diciamo sì poi dopo due settimane arriva un'altra mail vorremmo usarla per un'altra puntata siete d'accordo vabbè due puntate meglio di una poi vorremmo usarla in tre puntate altre puntate certo vorremmo usarla come sigla perché stiamo usando tutte le puntate io dico beh sigla è meglio che puntate nel senso così e quindi poi tutti pensano che nasce come sigla di Suburra perché sembra proprio citofonata in realtà poi scopro col senso di poi però sono stati bravissimi che non solo era per una puntata ma già a monte era stato previsto che fosse usato per tutta Suburra perché proprio gli sceneggiatori scrissero buona parte della sceneggiatura ascoltando quella canzone come sottofondo fisso e già gli attori cose che ho scoperto dopo andando a fare il casting nella scena finale avevano proprio nella sceneggiatura parte sette vizi capitale col testo e tutta la scena raccontata anche insertando degli elementi del testo mio capito cioè come se fosse già montato dovevi avere anche credit sul soggetto di sceneggiatura no quello no però diciamo che poi magari sai chiaramente vai là insomma nel cinema ci sono dei costi elevati anche per queste cose per cui è normale che ognuno fa il suo mestiere ma questo poi lo lasciamo diciamo per quanto io abbia la mia etichetta sia anche editore per cui sono di quella generazione anzi io tra i primi che dice che palle facciamoci l'etichetta alle edizioni nostre in modo che non diamo tutto ai multinazionali cerchiamo di conoscere la materia per cui un po' complice giurisprudenza un po' la mia passione senso pragmatico oltre a quello creativo un po' il fatto che per esempio negli anni poi faccio anche il delegato sono un delegato al 9 maglio per i diritti connessi per i colleghi quindi rappresento anche tanti colleghi che mi hanno votato eletto per essere anche la loro voce cercare di portare come posso dire riconoscimenti anche economici al lavoro che facciamo visto che ne soffruiscono in tanti e parlo soprattutto non del pubblico ma dei grandi editori è giusto che venga tutelato e riconosciuto il più possibile però diciamo così in maniera istintiva questa cosa già nasceva allora e però vabbè quelli sono altri tavoli altre situazioni qua ci interessa quello creativo e quindi nasce comunque lontana da Suburra che manco era nella mente forse di Netflix però poi due anni dopo si sposa perfettamente ma tutte queste qua più di successo che io ho fatto hanno tutti tutte una genesi particolarmente complessa cioè multistrato altre che io ho fatto di voi è una cosa scusami anche molto romana no? perché qua non è che non succedano cose in assoluto ma succedono sempre per via un po' tortuosa tortuosa sì cioè altre che io ho fatto tipo ah questa la faccio questa fa il botto sicuro l'uscita come va? la merda cioè impossibile sembrava tutto chiaro niente infatti ormai quando vedo che la canzone viene troppo bene o troppo dico non gliela fa questa quando vedo che c'è c'è una sorta di stop and go pausa e ripartenza ogni volta si aggiunge un tassello però comunque è positivo no? che si anima proprio prende vita dico ma si sta muovendo qualcosa tra dieci anni perché poi le genie si sono lunghe ma poi con Suburra hai dato solo questo pezzo no? hai fatto no no poi ho fatto tutta nel secondo poi ho fatto la come editore etichetta ho sincronizzato conoscendo appunto il mestiere nel dietro le quinte che comunque è diversamente bello però poi prevale insomma quello creativo e sincronizzato diciamo i brani rap che ci sono nel terzo ho fatto tutto cioè le musiche originali sia strumentali che cantate con Francesco Santa Lucia che la sync dei brani rap a parte un paio che non erano miei come etichetta e quello è stata una bella esperienza come funziona cioè nel senso a livello creativo è la più bella perché tu vedi le immagini e devi commentare a livello musicale il che è molto figo avremmo dovuto farlo in sala ma siccome c'era il covid ci arrivava un link per vederle queste immagini in anteprima mondiale e c'era tipo filigrana Tommaso Zanello Tommaso Zanello ah scritto sul video così non da pirati esatto però siccome mi conoscevo la penale da pagare nel caso in cui posso uscire vedere il mio nome smarmellato così che mi riempia di ansia ogni mattina mi rubano il computer c'era una tragedia disastro vabbè quindi insomma ci vediamo con Francesco per commentarle quindi ho fatto una scheda di lavoro avevo fatto una scheda per ogni personaggio con le sue frasi iconiche le sue caratteristiche in modo da poterle spernere nel testo però senza fare la descrizione banale cioè cercando di elevarlo in qualche modo a livello poetico cioè sono tutti criminali a Suburra però cercavo un po' pasolinianamente mi si perdoni il termine di trovare un po' il lato umano di ognuno di questi o perché erano arrivati a fare questa vita anche di Cuore Nero Samurai insomma quello un po' più così politicamente a destra che cita alcuni personaggi generalmente esistiti piuttosto che quello più come Spadino che rappresenta un po' il mondo girano romano Zingari Casamorica e quant'altro piuttosto che vabbè Alessandro Borghi insomma che è un po' più il quattro di periferia e quindi facciamo la musica originale ed era però tortuosa la cosa perché vedevi le immagini scrivevi il pezzo lo registravi mandavi il provino a Roma la produzione per approvazione lato regia montatore fatta la loro salvo la loro approvazione veniva mandato poi a Netflix Olanda di nuovo seconda approvazione a Netflix Los Angeles terza approvazione atterraggio dell'approvazione nero su bianco tipo ministeriale a Roma conferma definitiva di Cattleya avanti col secondo quanto ci voleva ogni volta la prima puntata è quella più faticosa perché dovevamo tutti sincronizzarci quindi è stata un po' lunga tanto che mentre arrivava l'approvazione ha detto vado avanti con la terza puntata perché poi la seconda magari mancavano delle scene da girare e la terza invece era già finita oppure la quarta era in montaggio invece la terza già a buon punto qui non era così lineare da 1 a 6 era 1 3 6 2 5 e poi dalle seconde molto più spediti perché all'inizio era facciamo sicuramente 3 puntate poi dalla quarta in poi hai titoli di testa come autore della colonna sonora perché è più della metà e poi in realtà noi le abbiamo fatte tutte le puntate perché ogni puntata siamo riusciti a mettere sia il commento sonoro che la sigla cioè la ho detto io perché ti hanno chiesto prima una puntata per vedere come andava per vedere sì perché comunque giustamente è un lavoro di squadra al cinema dove poi il regista è il sindaco quindi c'era l'ultima parola la produzione ha parecchie parole e non da meno anche chiaramente sceneggiatori montatori e quant'altro e quindi era giusto così capire se si creava feeling come poi è stato e là io ho proposto l'idea visto che sarà già creato un rapporto da tempo su burra 1 ho detto ma ragazzi scusate ma anziché fa una sigla che la fanno tutti cioè cerchiamo sempre di fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno perché comunque siamo italiani cioè nel senso sull'arte non è che insomma noi spaccheremmo se ne siamo consapevoli perché non facciamo una sigla diversa per ogni puntata cioè siccome un'opera collettiva collettivamente ogni personaggio ha la sua sigla a mo' di cartone animato anni 80 per cui c'hai Gundam ma anche Titan ma anche Ufo Robo ma anche Jig poi le idee a volte sono molto semplici però è figa questa cosa originale ho fatto non so perché è una cosa che è già stata fatta sì si può anche rifare per carità però già che ci siamo mettiamo un tassello in più ma a proposito di originalità io questa non l'ho vista l'ho letta ma tu hai fatto Pinocchio in un'opera anche no allora se puoi dirla bene l'ho letto così e devo dirgli quella romana squattare un'opera scritta da Andrea Camilleri e Ugo Pericoletti loro anche in scena anche se complice l'età perché ora purtroppo chiaramente non ci sono più entrambi ma la dipartita poi è stata di poco successiva alla messa in scena dell'opera quindi erano stati ripresi digitalmente c'era un'opera comunque lirica però moderna che mescolava appunto digitale fisico adulti bambini lirica pura con i cantanti lirici e il mio rap però sì tecnicamente opera lirica Pinocchio mal visto dal gatto e dalla volpe al teatro massimo di Palermo coprodotta dal teatro massimo della RAI infatti andò in onda anche nel santo giorno di Natale su RAI 5 io facevo Pinocchio adulto perché anche là guarda là abbiamo rischiato il Giappone 2 cioè stavo all'auditorio ma escono queste due persone che poi conoscevo dai tempi di scuola mi dicono ah Tommaso incredibile parlavamo di te dico ah spero bene sì sì figurate ma perché parlavate di me è una cosa particolare però ma tu puoi venire in ufficio in settimana te la spiegare ma dico ma particolare tipo ma non mi ci vuole tempo fidati però figa siccome erano due persone che stimavo cioè che stimo tuttora sennò sembra che ti ho ridicato dico vabbè dai vengo mi siedo mi dico senti allora noi dobbiamo fare una cosa con scritta da Camilleri Gregoretti dico mazza complimenti figo e io che c'entro e mo ti spiegamo allora è su Pinocchio ah figo io che c'entro e mo ti spiegamo allora ci sarà Tizzecaio figo io che ti puoi fare tu fai Pinocchio dico ma c'ho 40 anni perché era 2016 mi sembra no vabbè sì più di 40 anni Pinocchio ti volei rammentare che è un bambino quindi non mi sembra il caso no però questo è particolare perché poi Pinocchio è bambino ma c'è insomma una sorta di magia così con la fatina diventa grande e racconta i veri fatti come sono andati rispetto a come dovrebbero far raccontare il gatto e la volpe cioè loro hanno invertito il gatto e la volpe dicono Pinocchio ci ha derubati c'è luso ci ha affrodato capito e apparentemente lo arrestano tutti ah Pinocchio che bambino cattivo questi due poveri anziani beh lo restavano anche nell'originale lo impiccano ah sì non mi dico vabbè sì comunque poi c'è tutto c'è questa magia c'è proprio il giudice tutto quanto tutti i personaggi a modi un po' animali umani no? e e e e e presente la serie quella che ha ah sì 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 esatto sì sì infatti anche il giudice e praticamente niente io poi rappando racconto i fatti come sono andati convinco il giudice e a quel punto Pinocchio viene rilasciato tutti si scusano i bambini fanno festa invece vengono puniti insomma e condotti all'arresto degli altri volpi e poi te l'hanno chiesto in India no in India purtroppo no anche se mi aspetto che magari magari te lo può accadere tanto io c'è inoltre che io penso troppo perché le cose mie più importanti sono frutto dell'istinto le cose meno riuscite sono frutto del mio raziocinio quindi evidentemente devo pensare meno cioè quindi devi diventare proprio fatalista assoluto si già lo sono ma già l'ero da piccolo però poi crescendo sempre più ma invece una cosa che è stata sempre molto curata sono i video cioè lì come funziona tu hai la visione poi chiede a qualcuno di farli io rompo parecchio le palle sui video non è che rompo le palle che mi diverte come linguaggio soprattutto mi divertiva tanto ora un filino meno e perché hanno perso la loro sacralità cioè prima erano meno video costavano anche tanto però quando facevi il video era oh cioè è un cortometraggio era molto di più ormai video perché hai da sì io mi ricordo che registravo in tv cosa era io la notte col timer e poi li vedevi li passavi li commentavi ormai abituati a questa orgia di immagini raramente un video riesce a bucare tutto spesso è tornato a essere quello che era quei musicarelli negli anni 60 cioè di servizio mediatico ai fini della diffusione del brano cioè chiaramente un tg se ha l'immagine a supporto di un brano può raccontarlo meglio e di più e lo si fa però invece là a un certo punto cioè poi aveva una sua dignità il videocrip che a volte superava anche la canzone anche se il genere musicale non ti piaceva poi dicevano no sto video quanto è figo sì sì infatti poi c'era era nata la mania di fare anche un po' c'era corrente di fare un po' dei film dei microfilm no sì sì prima anche in America c'era i film di video di Dottor Drey forse di Puff Daddy forse era anche per impedire che la gente si registrasse dal video la cassetta probabilmente non so però anche adesso parlando con i colleghi e poi vabbè poi devo far il video viene detto col tono tipo che palle ho pure staccollo diceva è figo sì è figo ma ormai chi li guarda ti fai 30 secondi su Spotify che gira il canvas hai fatto diceva beh non è un video è un tipo un reel cioè però vabbè a parte che gli inserti c'erano anche super caffone no cioè parlate no perché là c'è l'idea infatti di fare una sorta di cortometraggio tutto sommato e quello come è nato hai fatto con i manetti con i manetti no ma con i manetti avevano già fatto anche la grande cioè tante cose quindi c'è un rapporto ma anche adesso siamo amici ci sentiamo però in quegli anni anche loro amavano molto il linguaggio le videoclippe cose che invece poi loro hanno portato avanti per un po' poi si sono sostanzialmente stufati anche loro salvo orari back in the days poi nel caso di super amici o cose che nascono magari legate a un film a loro però il linguaggio che ci piaceva tanto loro essendo registi chiaramente in primis però mi ricordo che quando si faceva un videoclip era proprio oh ci vediamo a casa di che dobbiamo scrivere il video era proprio tipo una mini sceneggiatura ah sì sì chiaro però si vede sempre nei tuoi video che c'è poi alcuni sono più belle forse un po' meno però comunque poi sono tanti no c'è sempre l'idea di avere un'idea cioè nel senso c'è sempre questa cosa di dotare il video di qualcosa in più della canzone o di diverso o di arricchente insomma però non è sempre così le volte sono proprio piatti però anche perché io lavoro sempre cioè no sempre ma spesso con reggisti che poi magari dopo fanno cinema quindi si vede che hanno una voglia di raccontare differente che l'audio noce l'una gualano cioè budget permettendoci al desiderio di andare un po' oltre al mero playback diciamo sì qualcuno riesce più qualcuno meno qualcuno si è più ispirato qualcuno si è spigato qualcuno magari non c'è il budget adeguato però comunque uno almeno ci prova sempre insomma quindi alcuni sono particolarmente riusciti gli ultimi mi piacciono molto la D'Addio tantissimo da Notte in Famere di Daniele Tofani di quelli vecchi anche troppo avanti con Caparezza altrimenti mi piace parecchio ma a livello di featuring invece le persone che non ti aspettavi con cui non ti aspettavi di lavorare che hai lavorato che ti hanno sorpreso che ti sei trovato bene Tonino Carotone che amo Tonino non pensavo di lavorare con lui secondo me lavorare con Tonino è facilissimo o difficilissimo perché è talmente puro lui che o tu ti leghi e empatizzi da subito oppure poi è difficile cioè lui è proprio recalcitrante ha lo schema lavorativo professionale orario puntualità precisione facciamo quello poi la promozione cioè lui se una cosa non gli piace non c'è niente da fare ma se gli piace va in deroga a tutto ciò che ho detto per cui non c'è più orario si può fare tutto quello che serve basta che si sta insieme a me questo approccio così super emotivo che ha anche io parzialmente approccio anche quell'altro un po' più di mia madre milanese e di Tonino mi piace in botto e lui sta a Madrid e quindi abbiamo legato subito però sai non ho mai conosciuto conosciuti così tipo ci vediamo a Roma e famostra cosa però da lì siamo rimasti amici ci sentiamo i messaggi sono stupendi cioè sembravo lui che canta quando li manda bello ma senti visto che prima parlavi di diritti adesso com'è cambiata la scena musicale si vendono meno dischi cioè sono diventate immagini molto importanti oltre ai live anche i diritti radiofonici cioè come funziona tutto quel mondo devi fare dei numeri molto grossi immagino perché sia rilevante ma si è cambiato il mondo come cambia sempre quello della musica rispetto ai mezzi di funzione della medesima che poi molti dicono no perché poi la musica ha fatto è questa e di conseguenza il mezzo è quell'altro no il mezzo è quello e di conseguenza la musica purtroppo cede il passo Ubi Maior al mercato ma vale da sempre cioè quando esplode il vinile si fanno un certo tipo di dischi per cui prevale gli anni 60 la forma del singolo come adesso magari Spotify poi i vinili hanno una dimensione temporale più ampia allora va di moda l'album e di questi magari il concept come poi nel prog per cui tutto come se fosse un libro anziché il racconto breve poi il cd che arriva da 74 a 80 minuti allora comincia a andare di moda i live registrati i cd con le bonus track i cd con i remix perché tanto puoi riempire poi arriva lo streaming a ributta giù tutto ricomincia con i singoli con le playlist che poi sarebbe la compilation anni 90 insomma ci si adatta a quello che la tecnica richiede ad esempio credo un genere che a me interessava da ragazzo che la sensor sia morta anche per via dello streaming perché non è compatibile con le piattaforme sia come contenuti sia anche come lingua perché è un dialetto inglese anglosassone cioè la danzola non è morta ma non ha certamente non brilla come brillava negli anni 90 e io continuo ad ascoltarla perché la adoro però ti dico che per esempio prima c'erano due o tre scuole cioè quella roots diciamo da autore più acustica poi c'è quella danzola spinta un po' più da battaglia cioè che ne so Kepleton Buccio Banton così che poi Buccio è più ampio però vabbè diciamo quello e poi quella magari proprio quasi non ti dico reggaeton afrobeat ma insomma le fan man quella proprio divertentistica ormai ci sono 15 16 tipologie di di musica non so perché non ce n'è una che va davvero e tiri e non c'è un solo personaggio quasi carismatico che faccia da catalizzatore mondiale no da quando non è il successo di Gertel si capito purtroppo è così però c'è anche un problema distributivo cioè quella cosa lì non può uscire su su Spotify cioè c'è ma il rhythm è un problema a livello legale perché comunque poi Spotify cioè il digitale tu carichi una cosa e rivendichi il diritto quindi se altri 20 ricaricano quel rhythm e poi viene da rivendicato e che era un problema che li buttano giù gli altri invece là c'era quella cosa essendo solo fisico può anche coesistere capito si si cioè come libro poi in digitale vabbè il libro è tradotto è diverso non si può fare come sempre vabbè insomma comunque non ci può essere una coesistenza di più cose simili cioè una sola che prevale e comunque un testo random di Elephant Man oggi non è accettabile per quello che c'è il codice oggi espressivo regge un po' sul live poi detto questo io ho l'impressione che non ci sia molta voglia di regge nell'umanità perché quel mondo un po' così fiabbesco utopistico del peace one love è proprio non presente nei nostri giorni a livello di un po' tessuto umano un po' anche proprio a livello geopolitico visto quello che sta accadendo perché poi invece quel tipo di musica parla col suo ritmo non so io mi sentivo quando l'ascolto a volte lo metto la domenica mattina così mi sento un po' in pace col mondo intanto ci vogliono degli impianti grossi che non ci sono più in molti posti cioè per ascoltare Roots e Dub ma anche la dance alla fine cioè ci vogliono di Sound System Series perché altrimenti non l'apprezzi veramente perché è musica musicalmente molto semplice però ha un certo volume diventa quasi una cosa non è tribale però cioè ha a che fare come la musica elettronica che dopo un po' che sei dentro la musica elettronica raggiungi quasi un stato di estasi la musica giamaicana anche può andare in quella direzione però non puoi sentirla con le casse del computer cioè non la senti ma non è che ti dice granché secondo me c'è sempre un sogno così utopistico di obbligare i grandi capi di stato all'ascolto per un giorno interno di reggae roots dub e poi farli chiamare a vicenda un po' un cannone reggae no scusa no si sui confini c'è ragione scusa no facciamo un passo indietro abbiamo sbagliato che Dio ci perdoni eh sì sarebbe interessante non credo che succederà no mi sa che ascoltano tipo forse qualcosa di più esasperato super industrial si ascoltano qualcosa perché probabilmente non ascoltano niente va bene Tommaso grazie mille allora il libro lo ricordo si chiama Corso Trieste ed è uscito per la nave di Teseo e lo trovate nel link in descrizione insomma ne abbiamo parlato estesamente ma c'è ancora dentro tante cose di cui non abbiamo discusso quindi insomma riserva ancora molte sorprese per chi lo vorrà leggere e contemporanea esce anche il disco nuovo sì una notte in fame è uscito l'8 marzo il libro il 19 viaggiano assieme un po' come ho detto uno per evocazioni flash e fermo immagine il disco questo in maniera invece più descrittiva estesa per più di vent'anni dal punto di vista di due fratelli diversi ma poi così affini in tutto quello che succede e cambia in Roma e in Italia e poi assieme viaggiano a livello di tour perché appunto oltre a tutto il disco nuovo e delle cose vecchie che però sono in tema emotivo o nella notte in fame ci sono anche tutti dei visual a raccontare questa storia collettiva e questo rapporto storie intendo che sono anche immagini di allora di quei fatti dei videoclip fatti ad hoc altre immagini fatte sempre proprio per lo show però è difficile descriverlo cioè andrebbe visto siccome siamo in tour comunque fino al primo maggio ci siamo un'altra caratteristica che abbiamo detto è che poi ci sono questi inserti di storia italiana maggiore nel senso la cronaca la storia che conosciamo tutti almeno insomma le persone che hanno la nostra età e che si intrecciano appunto che si vedono sullo sfondo in alcuni casi appunto come hai raccontato prima con la vicenda dei serpi che arriva proprio molto vicino alla vostra storia quindi anche questo è un aspetto molto interessante le date del tour si trovano su miei social che è piottatommaso sia su facebook che su instagram e ci vediamo in giro per chi vuole e quindi niente a presto va bene grazie mille a te bella bella